Ciao, oggi siamo qui per la terza edizione di My Vodafone Hack, una maratona di 24 ore dove 70 ragazze e ragazzi si sfideranno per costruire servizi sempre più innovativi per l'app My Vodafone. Abbiamo ragazzi di diverse estrazioni, abbiamo sviluppatori, esperti di marketing e esperti di user experience. Nelle prossime 24 ore si sfideranno per costruire un'esperienza innovativa e rivoluzionaria per i clienti Vodafone. Allora seguiteci sui nostri canali social e buon accanto a tutti. Ciao!